si è comodo, andiamo a vedere la scaletta questo è perché quando passa il sergio lo trova con trs nuovo vedi dove l'avevamo fatto da lì salendo da lì e uscivi si ma quella lì siamo passati domenica tanto quello va, ormai lo scavolo si è raggiunto questo è tenuto per chi è bravo Marco ma per chi non è bravo si attacca per chi è bravo salta su di qua e sei già al di là del cancello